mi do il buon natale a tutti che l'avessi tre, visto che siamo in video storie ore, che ora ora devo fare tutta la storia delle storie si prenda tutto, quello che vuole allora, te devo mettere tutte le uova qua, cos'è te le mangi? allora, quella cazza ha bisogno di mille cose e quindi andiamo subito a farle, ho già i soldi ok, allora, ecco qua perfetto, allora, ecco voi tutto l'occorrente, che già se l'hanno preso tutti sì, perfetto oh, ma ve lo devolate sì, basta che non me l'hai risparmiato perché ci sono mille ok, level up, level up e level up sì, come te lo devo dare? oh sì, guardate qualsiasi soldi ok, stiamo salendo un po' troppo mi sembra allora, andiamo a fare le cose perché già l'altro è tutto completo andiamo a mettere le cose quindi sì, non sprecate subito perché poi devo lavorarci io, capite? ok, allora, questo è qua sì, divorateveli divorate se lo divorano veramente dai, prendi ok, grazie, sì oh, senti vabbè, tre mele, ok qua io ho completato le mele se ne stanno divorando in due mele eh, quello ha pagato, eh, deve pagare dai quanto è questo? quanto ha preso? tutto, tutto, mamma questo? vabbè ok, chiudi e poi boh, no, 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 no ok, veramente così è aperta così è chiusa quella è anche chiusa ma se io faccio così potete io oh, perfetto sì, non ho problemi ok, chiudiamo perché ho paura che vengono altri allora qua le mele perfetto allora ora dobbiamo andare a mettere tutte le cose ok, allora questo qua le mettiamo nel frullatore mele ok qua, mamma mia oh ma neanche il tempo mi date poi scusatemi sono dio ora ho sentito avete rotto le palle ne ho rotto un altro basta quanto ne volete di miele non si chiama mele di carne ok ok perfetto ti guardatevelo perfetto lo siete mangiati già tutti vedetevelo vedetevelo un altro vabbè se non pagano non possono riunire gli altri è vero allora allora ok ok allora mettiamo le cose qua allora allora posso senti fai così e vai ecco finalmente che lasciamo fare oh finalmente ok si calmi calmi perché devo prendere le uova ma dai ma quello là si è stregato le uova in due minuti che scatole ok bravo prendi tutto quello che vuoi e li devo andare in due minuti però ok si buongiorno cosa deve fare cosa deve fare se 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 cosa deve fare cosa deve fare se tutto eeeh sta pagando paga 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 subito paga ok perfetto il senso non c'è vediamo ok allora eeeh ok perfetto ora lei fa le uova tranquille e io gliele prendo ahahahahah vabbè eh tutto è qua si vuole che devi fare ok si me l'è stato un po' troppo cozzumalido però diavolo ok c'è solo una ora dobbiamo andare a prendere a farle perché è troppo cioè guardate solo due mi sono rimaste diavolo ok se lo pago allora non posso andare avanti gli altri ok allora ciao tu sei di muro sta cosa cioè oh oh si oh a to 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 tu 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 aspettiamo gli altri ok uno l'abbiamo preso fred un altro preso un altro e basta e abbiamo finito e così qua li butto perfetto li ho appena fatti li ho appena buttati ok eccoci qua quello dietro proprio ha preso la spesa intelligente tu ne hai preso tu ne hai preso ahhh non si sta pagando troppi soldi wow come mi vedi di oro come mi vedi di oro di sicuro belli di oro di sicuro ok ok andiamo a vedere tutto questo che posso fare qua ok perfetto tutti stanno prendendo i miei clienti tutti stanno prendendo le cose sì ho togato me ne state consumate due minuti la bella vale e questo qua è proprio vicino a me guardate ha appena iniziato il gioco ehi non posso entrare vabbè andiamocele via quindi ma sì prima che vai da l'auro ti devi lavare stanno per la doccia no sì e no se do quello in copertina no tu scendi gattina che sei già pulito se mangiamo l'acidiamo tanto con gattina ok nessuno c'è ancora però io faccio le cose ah no c'è 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 aiaiai due persone di già ok allora che devo fare io devo solo fare delle cose semplici aiaiai e che si è tornato in là l'amore di cui non ti fuggi fatti io ho portato un po' ok ok tutto 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 vabbè lasciamo la penna no eh ti sa tutti l'ho che l'hanno fatto io sono l'unico che la lascio aperta Gaddafi se sei scritto a questo canale se un mio fanno bravo ok 4 mele finalmente questo è una posizione acqua ok dato su quattro mele ok eccolo ok devono andare a pagare finalmente voi conoscete paga e lui non paga dai paga dai paga paga allora devo dire che i soldi oddio ce li abbiamo ok 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 calma calma basta penso che ci ripostiamo prendere da un pensato prendiamoli sono finiti in due minuti già dopo dopo il capo di ck 3 ck 4 scopo che diavolo guardate che mi stanno uscendo nello schermo oddio ma sono pazzi vediamo ecco ora vediamo tutti i soldi wow devo dire che sono veramente molto allora possiamo fare le altre basi allora diciamo facciamo le altre basi ah questa qua questa è la base ok prendiamo questi 8 che sto finendo 2 minuti diavolo ok finiti i soldi vabbè lasciamo stare ragazzi ok paghiavolo salve ok appena un po' di soldi appena un po' di soldi perfetto ora stanno diventando ricco vabbè no allora andiamo a mettere altre casate divoratemi lì oh no ah si si è di vero veramente ok si anche la macina ma io ero dai posti dove faccio dati baci d'acqua ok allora questi stanno stanno facendo la sua cosa ragazzi poi ci sentiamo in un nuovo video perché veramente mi sono rotto tutto e quindi ci sentiamo per un nuovo video bye